Era intento ad urinare in un parco maceratese un giovane gambiano, questa mattina è stato multato con una sanzione che va dai 5.000 ai 10.000 euro. Questo è uno dei tanti episodi purtroppo quotidiani che si trovano di fronte alle forze dell'ordine maceratesi nelle aree verdi cittadine, dove da tempo si trovano veri e propri alloggi e cielo aperto, in aree giochi, panchine o altri spazi seminascosti. Le forze dell'ordine purtroppo hanno le mani legate e quindi non resta altro che monitorare, dato che questi cittadini solitamente richiedenti asilo sono regolari in Italia e non possono né essere espulsi né essere obbligati a trasferirsi, sempre se nel rispetto della legge. Maria Raffaella Abate, dirigente della squadra mobile, Gabriele Di Giuseppe, comandante delle volanti e Nicoletta Pascucci, a capo della Digos, con le indicazioni del questore Pignataro, stanno svolgendo un grande lavoro di squadra e ribadiscono il controllo totale sul territorio, cercando di rassicurare tutti i cittadini, nonostante le continue immagini di degrado e bivacchi nelle zone verdi di Macerata. Coinvolte anche amministrazione comunale, Croce Rossa e Onlus di accoglienza per un problema sempre più di difficile soluzione.